Ecco, allenamento del martedì sotto una pioggia battente, i nostri allievi di mister Gabriele di Felice si allenano con una temperatura rigida. A pochi chilometri da qua sta nevicando, i nostri ragazzi tutti si stanno allenando per prepararsi alla gara di domenica contro il Chieti. Forza ragazzi, attenti, i nostri ragazzi allenamenti, qua c'è un pantano d'acqua, guardate, nonostante i nostri stoici ragazzi si allenano in condizioni climatiche proprio scattivissime. Forza ragazzi, chi vuole l'olio? Chi vuole l'olio di campora? Vai, sotto una pioggia battente, anche zio Carlo prende l'acqua.